Musica Primo giugno 2016, ben ritrovati cari telespettatori, siamo in diretta alle 7 e mezzo, tutte le mattine ci ritroviamo per i giornali, lo faremo tra un attimo, vediamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è San Giustino Stiamo parlando di un martire del secondo secolo, il sole è sorto alle 5 e 28 e tramonterà alle 20 e 44, anche oggi come vedremo tra un istante, ecco le previsioni del tempo, della protezione civile, delle marche, insomma oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso, al mattino ancora sarà così così, insomma avremo ancora sole, poi la copertura delle nuvole, un po' come è successo nella giornata di ieri, aumenterà nelle ore centrali, Soprattutto il pomeriggio con l'aumento delle nuvole e poi i temporali, i rovesci, informazione sulle aree montane e collinari e poi il successivo spostamento verso la costa, i fenomeni oggi potranno risultare più probabili tra la tarda mattinata, come dicevo, e le ore pomeridiane Per effetto di questa pioggia eccetera, della perturbazione anche le temperature saranno in diminuzione Per domani, domani è giovedì di festa, festa della Repubblica, vedete sarà una festa un po' bagnata perché avremo precipitazioni sparse, carattere di rovescio temporale in attenuazione verso la sera Tutto questo sempre dalla tarda mattinata e il tardo pomeriggio, quindi diciamo che la mattinata sarà così così, poi peggiorerà nel corso della giornata Per venerdì 3 non è che le cose cambino tanto, quindi possibilità di brevi rovescio temporali durante le ore più calde della giornata Le temperature sono in lieve aumento, il tempo del fine settimana sulle Marche sarà probabilmente ancora all'insegna dell'inistabilità pomeridiana con temperature in lieve aumento I giornali, i giornali questa mattina parlano tutti di quel tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita un giovane papà di 30 anni Che stava andando al lavoro a Cattolica in un forno, ecco cosa scrivono le foto, gli articoli, i titoli sui quotidiani Questo è il messaggero che pubblica la foto con l'immagine di questo giovane papà di 30 anni, si schianta con la sua moto Andiamo sul resto del Carlino, la fotonotizia, eccola qua Mauro Sandroni, fornaio di 30 anni, di Tavuglia, si schianta contro un pick up, lo vedete nella fotografia Mentre in sella la sua motocicletta, la sua Suzuki, percorreva la provinciale Frattavuglia e Gradara Andava al lavoro e morto sul colpo, aveva un figlio di 7 anni La tragedia di un giovane padre, questo è il titolo All'interno anche le pagine interne, naturalmente sono tutte dedicate a questa terribile tragedia La pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, eccola qua Schianto all'alba muore un giovane padre, si stava dedicando a lavoro in moto Lo scontro con un pick up, illeso il conducente dell'automezzo, indagini sulla dinamica Il giovane lasciò un figlio di 7 anni, l'incidente è avvenuto alle 5.20 Quando questo giovane viaggiava a bordo della sua moto da Tavuglia Finito per scontrarsi contro un pick up che sopraggiungeva dalla direzione opposta Dall'altra parte a condurre la Fiat Strada era un trentenne di Urbino Entrambi i conducenti si stavano recando al lavoro L'impatto è stato fortissimo e il centauro è stato scaraventato con violenza contro l'asfalto Il paese, un paese di Tavuglia sotto shock, ancora incerta la data del funerale E questa dunque dicevo la notizia in evidenza su tutti e tre i quotidiani Andiamo sul messaggero alla pagina di Fano Ceriscioli, il presidente della regione Marche che scende di nuovo in campo per sostenere l'ospedale unico L'ospedale che dovrà servire le due città, la seconda e la terza città delle Marche Pesaro e Fano Il governatore sarà ospite di un'assemblea organizzata dal Partito Democratico nella Sala Verde del Teatro della Fortuna A Fano il 10 di giugno, appena prima, qualche giorno prima di ufficializzare l'interesse per il progetto Mentre l'ex sindaco boccia la linea di Massimo Seri, stiamo parlando di Stefano Guzzi Posizione sbagliata, si ostina su Chiaruccia e otterrà la chiusura del Santa Croce Pierpaoli di Fano Città Ideale dice ormai hanno deciso per Muraglia favorendo anche la sanità privata Dunque il potenziamento di Muraglia E poi la cronaca ha catturato un ricercato con il kit del repinatore Fugge ai carabinieri che lo inseguono e si nasconde in casa Era evaso dagli arresti domiciliari in Puglia E lo hanno trovato, ha fermato a Baia Metauro i carabinieri di Fano E l'uomo è stato arrestato al termine di un inseguimento È successo l'altra sera quando una pattuglia dei carabinieri ha visto questa motocicletta procedere a forte velocità Sopra, sempre sulla pagina di Fano del messaggero Il sindaco di Fano dice l'aeroporto va difeso ma ora pensiamo al parco Si tiene fuori dalla polemica il sindaco Da questa polemica sull'improvviso cambio al vertice della società Fano Fortuna Che ha visto cadere la testa di Gianluca Santorelli Al suo posto c'è un avvocato adesso, una donna Che è stata chiamata a dirigere e a presiedere il consiglio di amministrazione Questa è la pagina di Fano del messaggero Ma andiamo sulla nuova questura a Pesaro Ci sono dubbi tra i poliziotti L'accordo, lo ricordiamo, è stato annunciato l'altro giorno dal sindaco Ricci L'accordo per il trasferimento della sede nell'ex intendenza di finanza Piace ai sindacati questa idea, questa ipotesi Anche se ci sono delle perplessità sui parcheggi e sull'organizzazione in generale Il SIULP, che è il sindacato di polizia, è pronto a manifestare sotto la prefettura Se non avrà risposte chiare prima della firma prevista per il 17 giugno E poi c'è la notizia sotto, qua con qualche giornale ha pubblicato anche la fotografia Di un salvataggio, il salvataggio di un anziano Che aveva pensato di farla finire, finita Due poliziotti dunque si gettano nel fiume Foglia e lo salvano È arrivato a piedi sulle rive del fiume All'altezza di via Gradara Si è seduto su un muretto e dopo un attimo di esitazione si è lanciato in acqua Poi ha cominciato ad annaspare, rimanendo impigliato ad una pietra Quando qualcuno si è accorto che quell'anziano stava negando Un 35enne pesarese che stava pescando lì vicino ha chiamato il 113 I due agenti della volante si sono immediatamente tuffati per riportarlo Sano e salvo arriva Andiamo sulla pagina di Fano invece adesso del Corriere Adriatico Avanti Pacassoni con i carri, questo è l'argomento principale Il carnevale dunque estivo L'assessore Marcheggiani, l'assessore al turismo annuncia l'uscita Delle grandi allegorie per la notte rosa E condivisa la scelta di investire più risorse nelle opere di cartapesta Critiche a certi eccessi polemici C'è l'intervista che Foghetti questa mattina ha realizzato Appunto per capire un po' qual è Che cosa si vuol fare L'assessore intervista Marcheggiani Per capire che cosa si vuol fare di questa estate Con un occhio chiaramente un po' curioso Anche verso quello che è il carnevale Che qualche giorno fa ha cambiato il vertice completamente Adesso è guidato praticamente dai carristi L'ente carnevalesca Da quelli che per tanti anni a dire A sentir loro insomma sono stati tenuti fuori Accordo raggiunto stipendi entro giugno Parliamo adesso della promessa al personale della Croce Verde Croce Azzurra e One Emergenza Nell'incontro che si è tenuto ieri in prefettura Ieri sono arrivate queste rassicurazioni Per i lavoratori del trasporto sanitario Dunque gli stipendi arriveranno entro il mese di giugno Anche qui la cronaca in apertura sulla pagina di Fano Non si ferma all'alt Preso una persona che era evasa dai domiciliari In seguimento dei carabinieri Bane Metauro In casa aveva nascosto una pistola Mentre sull'ospedale Danna Giancarlo Danna Ospedale a Muraglia Io l'avevo detto Dice Giancarlo Danna Che per tanti anni si è battuto Per mantenere in vita L'ospedale di Fano Controllo di vicinato invece L'iniziativa su Facebook Avviata da Letizia Conter Citata È stata citata nel summit Nell'incontro che c'è stato in prefettura Sulla sicurezza E questa pagina Facebook Questo gruppo ha 1250 iscritti Sollecitato l'assessore Mascarin Per un'adesione formale del comune All'associazione nazionale E sempre sui quotidiani Sul quotidiano delle Marche di questa mattina La pagina di Senigallia si occupa della sosta Si paga la sosta I controlli sono però un rebus Scattano i ticket sul lungomare Ma non ci sono gli ausiliari Quelli che controllano Pochi vigili Al palo la squadra Anti sballo L'altra pagina invece di Senigallia Guardate l'ex Forse qualcuno se la ricorda Quando era nel suo splendore L'ex Villa Gioiello Sempre a Senigallia Muore per incuria La dimora dei Mastai Ferretti Che adesso è abbandonata Guardate come è ridotta Dai parti di lusso Di un tempo Ai festini dei Balordi Sotto invece viene raccontato Un episodio del 2004 Quando un uomo Che era appena stato multato Pensate Si è buttato sotto la macchina di un vigile E ha fatto finta di essere investito E beh per questa stupidata Chiaramente è stato denunciato Per calunnia Il problema è che Insomma Questo processo Il reato è caduto in prescrizione Quindi è una cosa Una storia praticamente infinita Questo processo per calunnia Non si può fare Appunto perché Il reato è caduto in prescrizione E questo vigile di quartiere Che era intervenuto Sulla spiaggia di Cesano Perché un ragazzo Aveva portato il cane Sull'arenile Insomma Ha dovuto Tenere dal 2008 Ad oggi Questo peso Addosso Di questa azione Mai commessa Cioè l'investimento Di questa persona Che non c'è stato Chiaramente Per il quale Comunque è stato assolto Con formula Piena Chiudiamo con due o tre paginette Del resto del Carlino Perché? Perché a Cartoceto C'è stato un maxifurto Pensate Di mille pannelli solari E' stata colpita Un'azienda vicina Al ristorante Un noto ristorante Della zona Un danno Da 300 mila euro Quindi niente Non solo bruscolini Il bottino è stato Il bottino è destinato Al mercato clandestino In Nord Africa Dove pare vadano Vanno installati Adesso questi pannelli Fotovoltaici Ogni pannello Pesa 15 kg E' stato E' spesso Alcuni centimetri E misura Un metro Per uno e mezzo Pensate Ieri Non so se Chi ha visto il telegiornale Ieri sera Ma ci sono le repliche Chiaramente anche Alle 11 di questa mattina E alle 13 e 40 Circa di oggi Siamo andati a vedere Sul posto Un po' come Avevano agito Questi malviventi Insomma C'è da dire Che hanno lavorato Proprio Staccato tutto E ci sono soltanto Questi supporti Ormai privi di pannelli E quindi Se volete avere un'idea Di come Sono andate le cose Di cosa stiamo parlando Perché insomma Sono mille pannelli solari Non sono pochi Ecco Guardatevi la replica Del telegiornale Poi Sempre sul resto Del carlino Scoprono il tumore Alla visita gratis A Palazzo San Michele Ci sono state Alcune giornate Di prevenzione Contro i mali Della pelle E tre fanesi Sono stati operati D'urgenza Dopo aver aderito A questa iniziativa Del Rotary Sono stati In tutto 170 i controlli In altri 5 casi E' stato consigliato Invece L'intervento Chirurgico E sotto invece E qui chiudiamo La nostra segna stampa Al parco di Fenile Sono già pronte Mille porzioni Di fagiano Perché da domani Per 4 giorni Si tenta Di superare Le 10.000 presenze Dell'anno scorso E quindi L'appuntamento a Fenile Era in quartiere Di Fano Per questa Festa Che tutti gli anni Non so Se per le fragole O per il fagiano Probabilmente per tutti e due Comunque richiama sempre Tante persone E con questo Chiudiamo qui La nostra occhiata ai giornali Grazie per averci seguito Vi ricordo Questa sera L'appuntamento Con il telegiornale Occhio alla notizia Alle 20.30 Arrivederci L'appuntamento L'appuntamento A tutti L'appuntamento